ragazzi buonasera dunque innanzitutto non preoccupatevi non sono morto né ferito semplicemente che sto poco bene un po di tosse un po di leggero raffreddore niente febbre malessere di stagione quindi niente di importante tant'è vero che domani mattina riprendo a lavorare a pieno regime detto questo perché mi sono arrivati due o tre messaggi ma è sparito ma non si fa più sentire ma siamo preoccupati non preoccupatevi sto bene cioè in questo momento non particolarmente bene ma tant'è e quindi non ho fatto come sentite non ho fatto né il video per la live reaction della partita con il napoli né tantomeno le pagellazze perché aveva un mal di testa piuttosto forte e non ne avevo proprio voglia non avevo neanche le capacità verbali diciamo così per poter fare un video e allora visto che la juventus ha comunque perso facciamo una piccola analisi stasera a distanza di un giorno poco più dove annoveriamo comunque la sconfitta del milan a spezia che sinceramente ci credevo poco ma tant'è mentre invece annoveriamo il fatto che l'inter si prende la testa della classifica e battendo 3 a 1 una lazio io ho visto soltanto il primo tempo come sempre l'inter non gioca perché tanto è una squadra di contropiede praticamente il portiere della lazio nel primo tempo possiamo dire quasi non pervenuto o quasi la partita l'ha fatta la lazio però da qui alla fine l'inter ha fatto tre gole alla lazio 1 quindi alla fin fine come diceva uno conta nei risultati il resto sono parole e conta nei risultati e il resto sono parole quando si parla soprattutto della juventus ma quando si parla soprattutto di questa juventus la juventus che ho avuto modo di vedere ieri partita vergognosa a mio parere ignobile ma qualcuno ha ancora il coraggio di dire sì ma non meritavamo di perdere da juventino dico ma chi se ne frega hai perso ma la cosa peggiore è che hai perso dopo 60 minuti di di calcio insulso insulso cioè non sei capace di fare una trama di gioco allora nella partita di ieri e mi meraviglio che continuate a difendere gente come vecchiellini lo difendete ancora allora un giocatore che per carità se lo metti a marcare fare il marcatore e basta la sua la dice ma per il resto lascia perdere c'ha due piedi come due ferri da stiro ok e anche ieri anche ieri sera cosa ho visto ho visto che ha preso la palla 150 volte 150 volte ha passato la palla al portiere o indietro di 30 metri 130 volte questi sono questo vuol dire giocare con chiellini quando tu dai la palla chiellini chiellini è una partita persa perché lui non sa cosa deve fare col pallone se non ha qualcuno che lo indirizza nel sapere cosa fare lui non è capace lui ha paura di tenere la palla sui piedi perché tenere il pallone fra i piedi non è compito suo e di conseguenza cosa succede che puntualmente sbaglia e quando non sbaglia dice io sono tranquillo do la palla al portiere chi se ne frega ieri sera ho visto una juventus insulsa non c'è un'idea di gioco che sia una una un'idea di gioco non ti importa mai 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 non c'è un giocatore che si prenda la briga di tirare boh non so cosa bisogna fare e quindi che cosa dobbiamo stare qui a criticare devo mettermi a criticare le parole di pirlo dai pirlo è uno che se stava anche zitto ieri sera a mio parere faceva la più bella figura sono sempre i soliti discorsi ma ce lo danno a noi se ce lo davano ma la juventus non meritava di perdere tu ieri hai perso contro uno dei napoli più scarsi degli ultimi dieci anni napoli quasi da serie b abbiamo avuto il coraggio non di non vincere ma di perdere addirittura pensa te se siamo bravi ma poi ripeto perdere nel secondo tempo abbiamo dominato hai fatto gol no perché per me signori il dominio deve essere poi confortato dai fatti eh cioè ha fatto tre tre interventi importanti ok ma questa è stata la juventus dei 100 minuti dei 95 minuti cioè 60 minuti di non gioco vergognoso a un chilometro all'ora con dei giocatori che quando giocavano nelle altre squadre uno di questi è Kulusevski Kulusevski ma che giocatore è ma questo deve ancora arrivare a Torino deve ancora io mi ricordo lo vedevo giocare porcaccia la miseria nel Parma era tutto lui andava ai 100 all'ora gli avversari li saltava come birilli ma era un giocatore bello da vedere venuto qui si è imbolsito che mi sembra un gobbo mi sembra nel vero senso della parola gobbo ma che giocatori sono morata non è non pervenuto quadrado poca roba ieri sera devo salvare due due giocatori ne salvo due salvo chiesa che secondo me è stato il migliore in campo e scezni non pervenuto perché tanto non ha fatto una parata non ha visto il pallone per il resto non faccio neanche le pagelle perché non avrebbe senso di fare le pagelle no perché gli altri sono tutti da quattro e mezzo cinque per me tutti ronaldo compreso giocatore che non sta dando neanche lui in questo momento il suo apporto allora bisogna andare a ricercare dove stanno i problemi non è un problema di modulo non è un problema di modulo perché quando tu giochi come ha giocato la juventus nel primo tempo non è un problema di moduli non è un problema di giocatori che vengono messi in campo qui e là come dice qualcuno è una questione che questa squadra non ha grinta non ha rabbia non ha voglia di vincere questo è il punto il resto sono chiacchiere che a me non interessano la juventus si risiede è stata ridicola ridicola contro e me lo ripeto e lo ripeto contro il napoli più scadente degli ultimi dieci anni una squadra da serie b abbiamo avuto il coraggio di perdere oggi pomeriggio ero sul divano perché chiaramente mi sono preso proprio due giorni per cercare di rimettermi un po' mi sono guardato una settantina di minuti dalla partita crotone sassuolo ok ora so benissimo che non vedo un calcio d'altissimo livello lo so ma ragazzi tu vedi giocare il sassuolo è una squadra che gioca tutti i giocatori sanno quello che devono fare si trovano nei punti giusti io non vedo alle altre squadre fare tutti gli errori in appoggio in disimpegno che fa la juventus non li vedo un sassuolo pressoché preciso io poi ho spento che mancava dieci minuti alla fine non so neanche se è finita così vinceva il sassuolo 2 a 1 ma ho visto il sassuolo a parte che vanno ai 100 all'ora perché corrono ma corrono allora uno mi dice amo loro hanno non hanno le coppe insomma allora praticamente la juventus quando gioca male noi dobbiamo sempre avere l'alibe delle coppe è perché ci dobbiamo risparmiare è perché allora ragazzi a inizio stagione facciamo una squadra di 40 giocatori non più di 25 26 facciamo una squadra di 40 giocatori che così giocatori li hai sempre pronti li hai perché non possiamo tutte le volte c'è una scusa c'è una scusa tutte le volte sistematicamente c'è una scusa mi sembra che faccia abbastanza ridere come cosa sinceramente io ripeto oggi ho visto il sassuolo in 70 minuti credo di avergli visto una volta passare la palla al portiere una volta una per il resto quando hanno la palla sulla loro tre quarti non esiste che vanno in affatto in affanno perché gli altri ti fanno il pressing noi siamo abbiamo cominciato da quest'anno a fare quello che io non avevo mai visto fare le azioni partono dalla nostra area che è sempre un rischio no perché un conto è che tu partire dalla nostra area ci parte un Zidane ci parte un Sivori ci parte un Del Piero ci parte questa gente qui posso anche capire ma quando tu la palla le azioni dalla tua area le fai partire da gente come Chiellini cioè della serie lascia perdere prenditi su una vanga con la punta di plastiche vai a rompere le pietre in montagna capito perché questo è questo è ha preso la palla cento volte ieri sera ha fatto 95 passaggi indietro e voi continuate a difendere questa gente questa gente che devono andare via dalla Juventus hai due giocatori in panchina che sono fortissimi uno si chiama De Ligt adesso hanno fatto passare per il salvatore della patria Bonucci perché Bonucci rientra contro il porto rientra il grande Bonucci uno dei giocatori più medi in difesa della nostra storia medi giocatore medio non dico mediocre perché esagererei forse ma medi noi siamo costretti in difesa ad appellarci a questa gente qui ai De Mirale e De Ligt sono uno più forte dell'altro ma devono stare in panchina perché devono far giocare i due vecchi ma anche poi il discorso in sé di tutto le dichiarazioni che sono state fatte le polemiche che sono successe ultimamente questa non è la Juventus questa non è più la Juventus che conosco io sinceramente la Juventus che conosco io è una Juventus diversa è una Juventus sempre con la bava alla bocca con la voglia di vincere con la grinta con la fame questa Juventus non ha nulla per potersi imporre a nessun livello a nessun livello una squadra che vuol vincere non va a fare delle partite come quella che noi abbiamo fatto ieri una squadra che vuol vincere gioca il primo tempo come il secondo tempo e il secondo tempo come il secondo tempo e giochi 90 minuti se poi ti devi risparmiare perché mercoledì c'hai la coppa dei campioni allora dirlo prima non dirmi a Napoli per vincere oltre al fatto che anche Pirlo come ripeto per me ha pisciato fuori dall'orinale secondo me stai zitto che fai più bella figura c'hai un chiellini che oltre a far ripartire le azioni dalla tua difesa ha anche causato un rigore perché sembra che nuoti per non affogare alza sempre le mani come per dire qui non mi venite scontro perché ci penso io no e puntualmente danno il rigore perché il rigore netto il rigore netto è inutile che Pirlo dica se ce lo danno a noi se ce lo davano a noi lo tenavamo facevano polemiche ma io sono diventato superiore a queste cose qui non mi interessa più mi dispiace io sono rimasto deluso però questa ripeto non è più la mia juventus la juventus che seguivo io che amavo io era una juventus diversa era una juventus che mi faceva piacere vedere questa è una juventus veramente molto abulica una squadra che non mi dà nulla non mi dà proprio nessunissimo tipo di emozione adesso vedremo che cosa succede martedì mercoledì non so neanche quando si gioca che cosa succede col porto tra l'altro è arrivata la notizia che quadrado out tutte e due le partite sia questa che quella col crotone no perché in questo momento c'è da temere anche quella col crotone di partite c'è da temere anche quella sicuro e garantito non so che cosa aspettarmi non non ci voglio pensare perché sono sono deluso perché questa era una domenica che se tu non sbagliavi ti rilanciava completamente e nel momento in cui invece dovevi hai dovuto rilanciarti e ti è crollato perché questa che che se ne dica e che che ne dicano gli juventini questa è una sconfitta molto molto pesante che ci ridimensiona enormemente ripeto non è più non è una questione di moduli o di giocatori perché tu puoi anche non giocare bene io lo accetto di non giocare bene ma perlomeno gioca con la fame almeno quello se non è chiedere troppo è se non è sempre chiedere troppo